Giornata importante e decisiva oggi per il complesso sportivo Le Nagadi. Infatti la Giunta regionale ha deliberato la proroga della concessione nei confronti dell'attuale concessionario, proroga che scadrà entro e non oltre il 31 luglio 2021 e in questo lasso di tempo gli uffici competenti della Regione provvederanno tramite un'evidenza pubblica ad emanare un bando per la nuova gestione. Quindi scongiurato il pericolo di chiusura di almeno qualche giorno come qualcuno paventava e quindi l'anno scorso la Regione Abruzzo ha riaperto dopo un lungo periodo di inattività questa struttura, oggi verrà prorogata la gestione attuale e quindi si potrà dare contezza e certezza agli utenti, alla squadra di pallannuoto, a chi pratica il nuoto sia in maniera amatoriale sia in maniera agonistica che la struttura sarà a tutti gli effetti aperta, funzionale e quindi tornerà ancora una volta ad essere un punto di riferimento dello sport e non solo all'interno del nostro Abruzzo.